Se saremo messi nelle condizioni di dover fare la terza dose anche ad altri, sicuramente questi hub vaccinali resteranno aperti. Diversamente, la vaccinazione anti-covid deve diventare vaccinazione come per gli altri, quindi ad opera del medico di famiglia che farà la vaccinazione anti-covid assieme alla vaccinazione anti-influenzale. Nessuna notizia certa per la chiusura breve degli hub vaccinali in provincia di Arezzo, anche se la sensazione è che a breve la modalità di vaccinazione potrebbe cambiare. Gli hub attualmente attivi sono al centro affari al teatro Tenda ad Arezzo, all'auditorium di Loro Ciuffenna e al centro sociale di Bibiena. Tutte strutture che non sono di proprietà dell'azienda sanitaria e per le quali c'è un costo da sostenere. Gli hub vaccinali dell'azienda Toscana Sud-Est sono per gran parte non hub di proprietà, ma sono strutture che noi abbiamo utilizzato e stiamo continuando a utilizzare. Se la domanda è fino a quando li utilizzeremo, la risposta è li utilizzeremo sicuramente per raccogliere gli over 60 alla vaccinazione, che non volessero andare dai medici di medicina generale, e tutta la questione del mondo della sanità. Detto questo vedremo le indicazioni della struttura commissariale. Per il momento non c'è una data di chiusura, anche perché proprio ieri è arrivato l'appello da parte della regione toscana per la somministrazione delle terze dosi, consigliate oltre che ai pazienti fragili e operatori sanitari, anche agli ultraottantenni. Il proseguo dell'utilizzo degli hub sarà soggetto anche ai dati sui contagi e alle indicazioni che fornirà la struttura commissariale, che proprio ieri ha inviato la sua delegazione all'ospedale San Donato. Il tema delle vaccinazioni è un tema aperto, però il primo punto di risposta è sicuramente rappresentato dal medico di medicina generale, che peraltro conosce personalmente i suoi assistiti, conosce le condizioni di salute e quindi solo lui può indirizzarli adeguatamente in questo percorso di salute.